Salve amici del Centro Meteo Italiano, aria polare che nei prossimi giorni raggiungerà la nostra penisola. Vediamo allora l'evoluzione per la prima settimana di marzo. Prossimi giorni che vedranno un vortice depressionario colmo di aria fredda, di estrazione polare, muoversi sull'Europa occidentale e poi verso l'editerraneo. Peggioramento meteo nel corso di domenica, prima al nord e poi al centro Italia, con piogge temporali e anche neve abbondante, specie sulle Alpi occidentali. Entrosera fiocchi fino a 700-900 metri. Minimo depressionario con goccia fredda che all'inizio della prossima settimana si sposta al sud, portando maltempo e un generale calo delle temperature. A seguire diversi modelli mostrano aria fredda in arrivo da est in aggancio con il flusso perturbato occidentale. Difficile stabilire al momento le conseguenze per l'Italia, ma la prossima settimana potrebbe comunque risultare movimentata. Data l'incertezza, seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.